Il secondo set con il 29%, 8-5, frontate di Gitto, rituazione di Andro, Coscione al centro per Costa, la difesa di Gitto, ci arriva Savani in qualche modo, poi starvi, c'è la rinetta, e primo punto di Galli, Coscione verso Costa, Savani grazie per la difesa! Grazie per la visione!